Per la loro battaglia in difesa del posto di lavoro, nelle scorse settimane hanno già incassato la solidarietà del mondo politico e istituzionale. Adesso è arrivata anche quella della diocesi sotto forma di una visita pastorale da parte del Vescovo. Sua eccellenza Monsignor Domenico Cornacchia ha incontrato questa mattina i dipendenti del mercatone 1 di Terlizzi che da giorni, come è noto, stanno portando avanti una protesta davanti ai cancelli chiusi dell'azienda. Una mobilitazione pacifica cominciata all'indomani del fallimento decretato alla fine del mese scorso dal Tribunale di Milano della società titolare del marchio della catena commerciale di arredamento, la Scernon Holding. Una doccia fredda per le circa 1860 persone impiegate nei 55 punti vendita italiani, ma anche per molti fornitori e clienti ancora in attesa di ritirare la merce già acquistata. Tra i 250 dipendenti pugliesi rimasti a casa da un momento all'altro, senza neanche una comunicazione ufficiale da parte dei vertici aziendali, ci sono naturalmente anche quelli dello stabilimento della zona industriale di Terlizzi. Ai loro appelli alle istituzioni regionali e nazionali per arrivare ad una rapida risoluzione della vertenza si è unito quello di Monsignor Cornacchia che ha chiesto interventi concreti per ridare una speranza a tante famiglie. Adesso si tratta di mettere insieme le nostre voci e di far giungere il nostro grido, il nostro appello a coloro che detengono nelle loro mani il futuro di questa azienda perché possano compenetrarsi nella situazione oggettiva di tante famiglie bisognose. Loro mi auguro che è coloro che possono e che devono riaprano i varchi di speranza a queste famiglie, assicurando un posto di lavoro, cercando magari di pianificare le proprie risorse, le proprie forze a vantaggio oggi di chi non ha voce e di chi è fuori per strada a rivendicare i propri diritti.